one live Jack se adesso io ti dicessi guarda volevo farti vedere un breve trucchettino di magia e ti sbalordissi e sono un fottuto fenomeno che cioè per fare dei prestigi sei venuti da me a chiedere consulenza io non ci crederei ci sarebbe una sorpresa neanche io ci sarebbe una sorpresa e non è così? è così? non è così però io ho una roba per te veramente? che cos'hai? questo lo lascio qua è il grande così teniamo gli ascoltatori fino alla fine dicono chissà che cazzo succede non posso tenere quella scatola lì per i prossimi quattro anni così la mostriamo tra quattro anni restano per quattro anni esatto la lasciamo qua questo è il gran finale successivamente ti chiederò di fare delle robe ma intanto questa rimane qua fino alla fine ma sei sei un sei un fottuto genio guarda che non l'ha mai fatto nessuno e ti dico avrò fatto non so avrò passato solo in questo periodo di covid cento ospiti sicuri e nessuno con un finale neanche Harari che ne sa a chi Harari Harari proprio finale what finale no zero grande ma grandissimo adesso mi hai messo una curiosità porca paletta mi sembri al TED quando è venuto il tizio con la scatola ha messo la scatola col punto interrogativa per capito creare suspense e poi questo è questo è questo è il gran finale esce un parrucchino e finalmente i capelli dello zio voti no no molto meglio molto meglio ti farò dire senti ma The Prestige cioè a me era piaciuto tantissimo guarda se io avessi scritto una predizione la prima domanda sarà su The Prestige l'avrei azzeccata comunque si è una figata The Prestige tu l'hai visto immagino penso che anche la maggior parte l'abbia visto e ti dico The Prestige racconta la vera vita di un mago la magia non è il trucco ma è la persona che c'è dietro no la magia è nella vita moderna la vita normale quello è il vero segreto quello è il vero trucco e infatti lui aveva dedicato la sua vita alla magia anzi loro a me piaceva molto Jack quando c'era il tizio asiatico che faceva il trucco del preciso della boccia della boccia lui era sempre committed non era solamente il trucco era fuori non era dentro grande bellissimo quella è la verità quella è la verità è così per fare molti giochi io non potrei farli se avessi un'altra personalità ok quindi in realtà in quel gran finale io devo considerare anche il prima delle nostre interazioni precedenti probabilmente già quello faceva parte del gran finale adesso vi hai messo questa curiosità sono già distratto non lo so però io ti farò delle domande tipo se ti piacciono più i colori rossi e i colori neri perché parleremo di carte io faccio sai la magia con le carte quindi ti chiedo solo di pensare a uno rosso o nero non lo devo dire non lo devi dire fino alla fine adesso hai già fatto la domanda è una domanda hai fatto la domanda tu ce l'hai ma non lo dici e andiamo a costruire piano piano una carta e poi tra un'ora dipende quanto vuoi far durare la live tra un'ora ci sarà la sorpresa e avrai costruito una carta ma dono adesso mi hai messo questa perché e non solo te anche a loro adesso c'è c'è la curiosità dirà ma che cazzo di carta c'è dentro e se uscisse la racchetta da timpon vabbè sono stato sono stato a vedere qui in Inghilterra ho visto Dynamo che adesso non si chiama male il povero Dynamo l'avevo visto al morbo di Kron come si chiama è una malattia tipo non adesso non voglio non lo so è una malattia comunque che ti fa dimagrire ti fa sbalzi no di totale ingrandimento ingrassamento e poi totale dimagrimento quindi poverino si insomma dispiace 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 e lui ha avuto un periodo che qua nel Regno Unito era era è beh è proprio quando ha camminato scura e io ero andato a vedere lo spettacolo live qua al Brighton Dome ok deludentissimo se devo essere non dirmi così però deludentissimo perché ma no dai sì cioè a parte che il grande problema è che vedevi tutto quello che su YouTube avevi già visto 67 volte e quindi diceva vabbè ma qual è la novità sua presenza scenica era poco presente diciamo è quello importante deludente invece quello che mi è piaciuto tantissimo però parliamo di un'altra categoria Darren Brown beh ma di cosa stiamo parlando è come dire Maradona proprio lui invece tutto tra l'altro era molto controverso in quel periodo perché faceva questi questi show anche per creare ti ricordi che aveva preso uno l'aveva convinto di essere su un aereo e poi diceva l'aereo sta cadendo adesso devi guidare tu cioè faceva tutte queste ipnosi ho visto anche io delle cose veramente incredibili comunque tornando al discorso di Dynamo volevo farti una domanda perché se tu vai a vedere un mago dici eh ma qua non c'è la novità però se vai a ascoltarti un cantante non vedi l'ora che faccia quella canzone no? come può essere? come te lo spieghi? perché probabilmente uno vive la magia come risultato finale la canzone come processo questa è la mia spiegazione quindi tu sai già com'è il finale esatto l'hai già visto e quindi non ti stupisce due volte la canzone processo se io dico adesso mi ascolto Mark Anthony non so è come uno che è venuto a quel punto tu te la vuoi assaporare sai già cosa succede ma ma ti vuoi assaporare quel momento invece il trucco di Sylvan o di David Copperfield ho capito che che fa scomparire la statua della libertà perché sposta la visuale non so come cazzo faccio però insomma lo so e a quel punto non me lo godo più e quindi voglio sempre ah ok allora è diverso al massimo sia quello allora è diverso sai la soluzione e quindi lo vedi con altri occhi sì però se tu non vedi la soluzione o non la sai la magia è comunque sempre forte però scusami anche se anche se non sapessi la soluzione forse perché io ad esempio quando ho visto Dynamo non è che sapevo la soluzione ai suoi vari trucchi no certo magari alcuni però la magia diciamo non è passata la magia è passata poco perché perché secondo me lo fa molto la personalità adesso non sto dicendo se Dynamo è bravo o non è bravo ognuno se un mago ti fa percepire la magia che sia in tv in mezzo alla strada sotto un ponte in grattacielo per me ha fatto il suo mestiere però credo che sia molto la persona uno dei più grandi maghi al mondo Juan Tamariz spagnolo ha fatto una lista delle cose più importanti che un prestigiatore deve avere e al primo posto c'è la persona e all'ultimo c'è il trucco secondo me è quello assolutamente infatti se ti dovessi dire cioè Darren Brown ebbè non è che ha fatto delle robe da dire oh cioè ma come ha fatto sì chiaramente è un fenomeno però ormai è un po' è tutto visto ma lui come l'ha raccontata in quel paio d'orette come si è mosso come parlava chiaramente ti conquista insomma nel suo carisma hai perfettamente ragione certo però ecco è un mondo meraviglioso la magia il tuo è un settore meraviglioso ma tu hai iniziato quando? ho iniziato a 16 anni dico mi piaceva già ma ho iniziato a 16 anni adesso sono 24 e ho iniziato contemporaneamente magia YouTube semplicemente perché non avevo gente a cui far vedere la magia e quindi mi registravo e la mettevo su YouTube perché non è che avessi avuto chissà quanti amici no? però è andata così e ho fatto vedere la magia su YouTube e poi pian piano è nato quello che è nato però è iniziato tutto da uno che mi aveva fatto una magia la magia era hai una pallina nella mano chiudi la mano apri la mano ci sono 10 palline e ho detto caspita in quel momento mi sono sentito proprio bene e voglio far passare voglio far passare altri momenti di questo tipo ad altre persone a più persone possibili no? quindi una sorta di supereroe ero all'inizio no? o i superpoteri però in realtà dopo è nato quello che è nato e come ti sei messo a studiare? cioè gran tutorial su YouTube scuola di magia come funziona? all'inizio tutorial su YouTube anche sì perché quella volta non sapevo bene come cercare come fare poi ho chiesto a mio padre 50 euro per comprarmi dei giochi di magia e mi ha detto no e dopo ho trovato il metodo insomma ho comprato un paio di robe non ho spacciato mi sono fatto dare un po' da mio padre mi ha aiutato e ho comprato i primi giochi ho iniziato un po' ad esibirmi un po' ad allenarmi ho preso qualche libro e ho iniziato pian piano ad esibirmi prima gratuitamente poi mi hanno visto qua io abito a Lignano Sabbiadoro in Friuli che ci sono tanti hotel a Lignano Sabbiadoro vedi? dove ho giocato l'internazionale di ping pong perdendo al primo turno esatto alla G-Tour alla G-Tour vero? ti ricordi il nome del posto? era tipo una palestrona palestrona esatto sì sì proprio qua qua davanti più o meno casa mia sì sì è stato così e dopodiché nel 2018 2019 io comunque seguivo tantissimi maghi uno dei miei preferiti era Dani Da Ortiz mago spagnolo uno dei più bravi al mondo con le carte non preoccuparti perché è proprio del settore diciamo ed è venuto in Italia gli sono andato a vederlo gli ho rotto le balle gli facevo vedere ogni secondo qualunque cosa mi venisse in mente e un giorno mi fa senti perché non vieni a studiare a casa mia? ma stai scherzando? come aver vinto la lotteria per me sono andato a casa sua come se Federer ti dicesse vieni a far due tiri a te hai capito? uguale e sono andato a casa sua e ho incontrato anche Juan Tamariz il mago spagnolo quello più anziano che ha inventato la magia in Spagna praticamente la carta magia in Spagna c'erano due canali tv uno era suo di Juan Tamariz in Spagna è Sylvan per dieci mettiamola così e poi nel mondo è top del top ho registrato un DVD con lui e poi insomma è andato avanti così e ho avuto un'opportunità incredibile e da lì ho imparato chi sono quelli ci sono quelli americani la coppia Penenteller 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 che ogni tanto vedo stiamo parlando passare su YouTube per spiegare ecco dimmi una cosa sulle spiegazioni Jack che ti volevo chiedere fino a un po' di anni fa sì diciamo pre-internet il concetto della magia era o cioè la magia c'è il trucco c'è ma non verrà mai spiegato è come Udine non è che spiegasse i propri trucchi poi era uscito una serie di un mago mascherato che iniziava a spiegare ai video le principali magie sì sì dopo il fenomeno Copperfield hanno detto ah ma come si fa a fare queste robe e a quel punto mi ricordo che era uscito questo e quando ero più sbarbato c'era tutta la polemica dicendo ma caso cioè questo non può mettersi lì esatto a rivelare i trucchi no e poi diciamo con l'esplosione di internet tutto il mondo della magia che è un mondo comunque che appassiona piace no e uno vuole sempre vedere come si fanno a fare delle cose che ti sembrano impossibili a quel punto c'è una marea di siti di gente che spiega che dice che fa la causa David Copperfield allora andiamo a vedere il tizio come ha fatto il trucco come la vivi questa parte qua che differenza c'è tra svelare spiegare insegnare come funziona secondo me hai detto benissimo cioè la differenza sostanziale è tra svelare quindi bisognerebbe vedere a priori qual è l'intenzione quindi questa è la cosa se tu vedi a priori qual è la tua intenzione sveli un trucco perché vuoi farti figo ok io nel mio caso mi piace insegnare ho fatto anche un corso di magia che adesso sta andando alla grande dove la gente è lì per imparare la magia a partire dalle basi capito no? quindi secondo me conta tantissimo l'intenzione poi nel senso bisogna vedere che cosa succede perché se io ti insegno ti faccio vedere il dietro le quinte di un effetto magari rimani affascinato tutto quello che vuoi però ti perdi la magia successivamente il discorso che facevamo prima ma io tipo il mio Danida Ortiz quando hanno pubblicato il suo DVD mi ha detto va bene se vogliono imparano l'hanno pubblicato gratuito l'hanno svelato se vogliono imparano quindi piccola verità io sono più per una questione morale che per una questione di non so come dire di dispetto no? quindi è proprio quella roba lì che a me non piace se tu fai quella roba lì per fare il dispetto io sono perché in genere chi lo fa questa roba? uno per sentirsi migliore di te no? e la 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 cosa che a me sempre non è piaciuta è che quando vuol dire che questa persona non ha avuto l'idea chiara di che cos'era la magia una persona non fa questa cosa non ti svela un effetto se la magia che gli hai fatto passare era bella magia hai capito? cosa voglio dirti no? e quindi è sempre il problema del mago se io ti faccio vedere un gioco di magia incredibile tu rimani te lo vuoi tenere tu no? se io invece ti do fastidio o tu ti senti questa è solo questione di ego se tu ti senti quello che non è più al centro dell'attenzione di solito succede con le coppie quando tu vai a fare magia in un locale a un maschio e una femmina che sono fidanzati il maschio è quello che rompe i coglioni di più perché non puoi essere così bravo davanti alla mia donna hai capito? e quindi ti rompo le balle di solito questo è il 90% dei casi che uno mi ha rotto le balle era così ok? però dipende sempre come ti poni tu perché io mi pongo sempre che la magia è un regalo ti faccio vivere un'esperienza sappiamo tutti che ci sono trucchi eccetera eccetera però è come l'arcobaleno l'arcobaleno sai che è un insieme di riflessi luce che crea il fascio e acqua che crea il fascio dei colori la magia è uguale sai che ci sono trucchi tecniche abilità ma l'esperienza della magia l'esperienza dell'arcobaleno è qualcosa che è un regalo capito? quindi sta a te però se tu mi rompi le balle io non ti faccio più un gioco di magia a me è successo tantissime volte che durante uno spettacolo no magari durante uno spettacolo a teatro no ma durante magari in un locale quando lavoravo per i locali o negli alberghi qualcuno che veniva lì a romperti le balle c'era lo trovavi sicuro e io non facevo più magia per lui fine ti sei giocato la carta certo certo peraltro la cosa assolutamente sbagliata dal mio punto di vista è è pensare che che sia tutto legato al trucco cioè il trucco può essere assolutamente banale e quando lo sai è ovvio e dici ah vabbè ma era sta cazzata qua ma il tema non è il trucco il tema è la performance esatto la magia e infatti per quello ti dico al primo posto la persona all'ultimo posto il trucco è la persona che fa la magia sì assolutamente peraltro sentivo anche David Copperfield che in un'intervista diceva ma adesso come fai che hanno svelato il tuo trucco no nella causa dove il tizio è rimasto nel tunnel o quello che è e lui dice ma io ormai faccio tre quattro modi diversi per fare uno stesso risultato di modo che se anche me ne scopri uno io ho degli altri allora questo mi ha aperto un mondo perché effettivamente puoi arrivare a un risultato uguale con metodologie sono tanti metodi assolutamente però diciamo che anche David Copperfield ha un sacco di risorse no perché può fare quello che vuole se uno gli chiede di creare un'illusione se lui commissiona una illusione ottica incredibile gliela fanno capito quindi è bravo anche per quello c'è poco da dire un altro che a me è piaciuto tantissimo per esempio Arturo Bracchetti ce l'abbiamo in Italia non so se avete visto o se hai visto l'ultimo spettacolo che ha fatto vattelo a vedere se hai l'opportunità ti fa proprio credere alla magia come tornare bambino e non te ne frega niente del trucco capito Arturo è un fenomeno Arturo peraltro è un caro amico e io ogni volta dico guarda Arturo devo portare i bambini a vedere il tuo spettacolo non sono mai riuscito però lo trovo ecco è un'altra persona che numero uno è un artista vero Arturo in generale la casa di Arturo l'hai mai vista? no lo spettacolo la casa di Arturo si che fa lo spettacolo casa sua casa sua non so c'ha la frutta c'è la frutta vera e la frutta finta certo c'è ah non so il frigorifero mimetizzato cioè lui è è sempre nella magia nella magia bene o male nel mio piccolo uguale perché questa stanza è addibita alla magia qualunque cosa qua dentro è a scopo di magia senti cosa c'è nel gran finale? dai dimmelo subito ah giusto abbiamo creato una abbiamo creato un un colore no? ce l'hai intendo? ce l'ho ce l'ho preciso questo è facile perfetto ora ci sono io non so che colore hai pensato una minima idea non ci siamo messi d'accordo prima perché sennò non verrebbe il finale mi stai dando diciamo un priming notevolissimo diciamo ma vabbè salterò e ci sono i colori rossi i colori neri e per i colori rossi ti faccio un esempio ci sono cuori quadri per i colori neri fiori e picche giusto? sei d'accordo con me no? spades and clubs and diamonds and hearts no per parlare in inglese tu che parli in inglese è una buona chiamata ecco e tu devi scegliere quelli che corrispondono al tuo per esempio se stai pensando ai rossi penserai cuori e quadri se penserai neri fiori e picche e ti chiedo di sceglierne uno per esempio se stai pensando ai neri ti chiedo di scegliere uno tra picche o fiori ma non dirmi quale se stai pensando ai rossi ti chiedo di scegliere uno tra i quadri e i cuori ma non dirmi quale ci arriveremo dopo ok ok adesso faccio vedere una cosa come funziona la nostra mente ti faccio vedere come la magia agisce per esempio la magia agisce agisce questo è il mio problema agisce nel in diverse vie aspettativa percezione e emozione per esempio l'aspettativa potrebbe essere questa no? tu da una scatolina rossa vedi uscire un mazzo di carte blu quindi ho completamente infranto la tua la tua aspettativa sei d'accordo com'è? ho completamente infranto la tua aspettativa la magia potrebbe essere una roba di questo tipo ti ho allargato l'inquadratura così almeno sei più comodo la magia potrebbe essere questo prendere la carta blu trasformarla in una carta rossa e poi lentamente adesso aspetta metto qua trasformare così la carta blu in un'altra carta rossa e di conseguenza tutto il mazzo di carte rosso questa potrebbe essere l'aspettativa per quanto riguarda invece la percezione potrebbe essere questa riprendo le carte per spiegarti quello che voglio dirti la percezione potrebbe essere questa tu hai avuto la percezione che il mazzo di carte sia uscito dalla scatolina sei d'accordo con me? sì 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 in realtà la scatolina è bucata oh ok questa è un altro lavoro di percezione un altro lavoro di percezione si basa sulla vista quindi vado a fregare i tuoi occhi in questo modo questa è un'illusione ottica che si chiama paradox box e tu puoi vederla solo a pezzi non puoi vederla nell'insieme nel momento in cui la vedi all'insieme la scatolina ti sembrerà tutta intatta ma in realtà è semplicemente divisa devo fartela vedere a pezzi quando tu la vedi nella giusta angolazione della telecamera tipo questa ti sembrerà di vedere la scatolina tridimensionale oppure un'altra cosa che frega la tua percezione per esempio potrebbe essere questa prendere un pennarello e far passare il pennarello attraversa una carta così si vede no? faccio rivedere ancora non vale non vale questo non vale tac passa attraverso così tac questa potrebbe essere un altro tipo di percezione e questa è come però la magia è anche emozione ti faccio un esempio ora ti chiedo di dirmi una carta non quella che stiamo costruendo un'altra totalmente diversa che può essere cuori quadri fiori picche ti faccio vedere che qua sono tutte diverse quella che vuoi la dico? si si dilla 7 di picche il 7 di picche facciamo una prova io taglio le carte e provo a capire dove si può trovare il 7 di picche guarda io taglio in questo modo e potrei dirti che il 7 di picche si trova in cima questo sarebbe veramente assurdo sarebbe magia la magia però potrebbe arrivare un pelino oltre perché ora non è accaduto niente quindi non è non è la prima basta fare così e il 7 di picche sale in cima vaffa il culo dai ma non vale non vale questo non vale è così però è incredibile come se uno ha tecnica conoscenza e abilità e ovviamente allenamento tutto sembri facile sembra facile in realtà non è facile per niente se tu vedi pianisti violinisti per loro è facilissimo poi secondo me bisogna distinguere tra tecnica e quindi tra abilità tecnica e magia perché secondo me la tecnica serve fino a un certo punto per esempio io ti potrei far vedere mille tecniche super avanzate tipo per far girare le carte o tipo questa che è figa però effettivamente l'abilità tecnica nei giochi in genere non c'è almeno per quanto mi riguarda i miei giochi l'abilità tecnica non deve esserci più tecnica c'è peggio è secondo me poi bisogna vedere il giusto equilibrio sempre però io in genere più tecnica c'è peggio è perché la tecnica è scopribile ok quindi dici se è un fatto di velocità di esecuzione posso il problema della tecnica è che tu magari prestigiatore adesso parlo nell'ottica di mago prestigiatore per non far vedere la tecnica ti faccio un esempio lo andiamo a vedere exposed come si dice se dovessi scambiare per esempio il 4 di fiori con il 3 di fiori l'ho appena scambiato così in questo modo io dovrei fare una tecnica super super rapida per scambiare le due carte avrei paura e questo viene come si può dire attribuito alla velocità di mano la carta è cambiata perché sei veloce invece no il mio scopo è quello di fare tutto più lento possibile hai capito no? io se voglio scambiarti due carte o se voglio trasformare il 7 di quadri in un'altra carta mi basterebbe fare così e si trasforma hai capito? qui non c'è il 4 di testa cioè chiaro anzi il paradosso più piano vai meno c'è bisogno di abilità meno c'è bisogno della manica lunga dei vecchi e quello è importante più è comprensibile più piano vai più è comprensibile secondo me ti chiedono Jack in chat che differenza c'è qua aspetta ti rimetto un po' più in grande ciao Jack secondo te è meglio il video è meglio fare una performance in video o di persona per il coinvolgimento del pubblico e in generale che differenza trovi tu perché dovendo fare in video cambia proprio la dinamica mentre invece se lo fai in strada o se lo fai a teatro sono logiche molto diverse sono ambienti e linguaggi soprattutto linguaggi totalmente diversi io sono partito da fare magia in video mi sono iniziato ad esibire nei locali quindi close up però vicinati e successivamente nei teatri quindi davanti a mille persone e il linguaggio è totalmente diverso quello che in video o in close up ti sembra cinque secondi pochissimo cinque secondi in teatro sono lunghi un'eternità no? quindi le differenze maggiori quali sono? innanzitutto che certi giochi che fai in video devono essere proprio devono vedersi ok? devono proprio vedersi e devono capirsi e soprattutto se hai un'angolazione devi seguire quella tipo non lo so ti faccio un esempio fammi vedere qui c'ho una moneta ok? c'ho una moneta devo vedere dov'è l'angolazione metterla nella mano e poi farla sparire ok? te lo faccio rivedere ho una moneta la metto in mano e la faccio sparire così devo andare avanti e devo avere la giusta angolazione quindi per video bisogna imparare a lavorare lo provo anch'io vedi questo c'è una volentieri l'obiettivo eccolo lì eh questo è quanto secondo me le differenze sono che da video devi per forza metterti davanti no? devi avere e soprattutto non è facile esibirsi da video eh cioè sembra facile ma non è così un gran caso ok e beh e poi close up puoi gestire perché c'è la misdirection la cosiddetta misdirection ovvero che puoi diciamo distrarre l'attenzione è brutto mi piace di più governare l'attenzione perché sei proprio vicino quindi puoi fare un gesto qua e nel frattempo sei libero nell'altra mano perché tutti guardano qua e ce li hai ravvicinati in teatro invece devi costruirtelo ad hoc lo spettacolo no? l'improvvisazione arriva fino a un certo punto avevo visto Jack Apollo Robbins una volta ho visto il TED Talk di Apollo Robbins però trovo anche invitarlo a un evento come speaker mi era piaciuto molto quel talk era tutto appunto sul l'indirizzare dirigere l'attenzione e lui faceva pickpocket no? ed era figo insomma perché chiaramente dici ma come fa ma è impossibile che non se ne accorga perché secondo te invece è così facile tra virgolette una volta che hai una persona e sai come fare è così facile che non si accorga di quello che sta succedendo perché gli stai dando informazioni nuove se io adesso ti dico non sai che cosa mi è successo ieri in ascensore se io non te lo dico tu mi ammazzi capito? come il graffinale lì sto aspettando il tuo graffinale quello è ti sto dando ogni volta un'informazione nuova no? quindi lui se tu vedi bene ti dice adesso non mi ricordo com'era ma era tipo ora tieni d'occhio la moneta rossa la moneta rossa è di qua dove è la moneta rossa? non è nella tua tasca nella tua tasca quante cose hai? ogni volta è un'informazione nuova e la tua mente va sulla domanda successiva perché la domanda successiva è sempre più importante ok? e questo questa è una regola fondamentale in magia quando tu fai una domanda quello che succede prima è completamente dimenticato ti faccio un altro esempio qui ho il quattro di fiori tu preferisci le rosse o le nere? è le rosse o le nere ti piacciono di più? vabbè non dirmelo niente perché io già non te lo dico però la cosa particolare è che ora io non so se questo è il quattro dov'è il quattro ti sto dando informazioni nuove l'ho già riscambiata ok? e quello che è successo prima tu non te lo accorgi non te lo ricordi non è nella tua testa perché ti sto dando ogni volta informazioni nuove questo è come funziona il nostro cervello per cui mi stai saturando la testa e sto processando io non sono attento perché sto processando quello di cui mi stai parlando o se mi tocchi da qualche parte come fa lui sì a me il toccare ti dico la verità non piace molto però in pickpocketing è fondamentale perché devo darti l'idea che c'è la confidenza che posso toccarti poi ti ruba l'orologio e tutte quelle robe lì quindi il tocco è fondamentale in pickpocketing in magia non così tanto secondo me dipende da che mancia fai ma secondo te pickpocketing è la domanda che uno si fa sempre è prende uno del pubblico che è d'accordo sì no no secondo te io l'ho visto fare dal vivo tantissime volte anche da mie amici specializzati in pickpocketing è incredibile perché la mente pensa a quello che succederà dopo o alla domanda e nel frattempo tu stai facendo fighissimo però è un potere enorme questo qua se sai usarlo bene sì io ho visto tantissime figure di merda se sai usarlo sì ma cosa succede se sbagli e ti sgamano clamorosamente come a me da bambino che faceva i trucchi di magia mi sgamavano sempre ti dico a me è successo di sbagliare tantissime volte in maniera irrimediabile credo quasi mai non ho ricordi in maniera di una volta irrimediabile diciamo che se tu vai con se vai se prendi un volo prenderai un volo con uno che sa con un pilota che ha volato 10.000 ore o con un pilota che ha volato 300 ore no credo che l'esperienza quindi le ore di volo come dice Aurelio Paviato grande mago italiano le ore di volo fanno no quindi più sei sul palco più ti esibisci più sai come gestire ogni situazione a me è capitato di tutto da dei bambini che mi lanciano i sassi in prima fila però mi hanno preso una manciata di sassi e mi hanno lanciato i sassi credo lo giuro o da quello che dice siete complici o da il successo di tutto credimi tutto mi è successo non mi fa quasi più paura niente io ho preso tra i miei top facendo eventi di tutt'altro tipo però immaginati quei eventi parli ho fatto 35 giorni di fila in piazza Duomo all'aperto avevo un baracchino e parlavo delle opportunità di internet ai giapponesi e alla gente per strada e a un certo punto c'era l'urlatore di piazza Duomo era un tizio che arrivava si sedeva in prima fila e iniziava a urlare la ciccone la ciccone però i sassi non vale il bambino non è colpa del bambino capisci no? non è colpa del bambino sono i genitori che hanno accorto però anche lì è la regola il mio spettacolo è tutto creato per gente che diciamo ha l'obo prefrontale sviluppato un bambino di 5 anni poverino non ha l'autocontrollo non ha un sacco di cose una persona che è nel mio pubblico deve saper ragionare deve saper seguire la magia è anche quello che ti succede nella testa per un bambino più piccolo ovviamente no capisci? quindi è anche tra virgolette colpa mia che non mi sono dedicato a loro ok però io non posso decidere chi viene al mio spettacolo ti chiedono in chat se Giulio Pugliese aspetta faccio vedere Jack puoi andare in casino o ti è vietato? posso andare tranquillamente abbiamo anche vinto un sacco una volta Jack hai detto dove va i dadi puoi andare tranquillamente si si tranquillamente penso che sia una oddio dipende in rari casi sicuramente qualcuno è bandito ma ma nel mio caso no anzi zero dimmi di questa tua esplosione pazzesca sui social perché sei un caso a sé perché di solito guarda è uscita una classifica l'altro giorno delle persone che fanno video con il maggiore seguito e mi sono ritrovato in sta classifica e quindi ho detto bomba bravo bomba gli altri sono cioè non so fa bj che fa il play c'è benedetta parodi che fa le ricette di cucina ci sono quelli che fanno gli scherzi cioè la classica diciamo il classico contenuto tu fai grossi numeri e un grosso seguito facendo un contenuto invece totalmente bello divertente diciamo di nicchia ma molto pulito ecco e quindi questo è super non è facile te lo aspettavi è una cosa che ti assolutamente no ti dico io youtube non l'ho mai vista come un lavoro come per me è sempre stato un divertimento poi ho visto che iniziava la gente si stava appassionando ma la mia regola è do agli altri quello che so e soprattutto li faccio divertire non ho mai video di polemiche o di robe non mi interessa io voglio far divertire la vita è lo spettacolo siamo qua facciamo magia ci divertiamo questo è poi diciamo se proprio vogliamo andare nel dettaglio il grande boom l'ho avuto con i rompicapi perché ti tengono lì incollato e quindi io che apro i rompicapi che ti smonto ti faccio vedere come è fatta la scatolina e con la serie dove imparo a fare cose quindi dove io mi metto lì e imparo a fare cose tipo c'era un episodio dedicato ai dadi non so se hai visto questo mi metto qua ok dove c'era aspetta 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 si erano impilati ok questo è stack dice mi ero messo una giornata più giornate ad imparare sta roba e quello è diventato viralissimo ho fatto milioni quindi quello lì è stato il vero boom secondo me ma la parte della magia è sempre cresciuta piano piano e non mi ha mai mollato e questa è la cosa fenomenale secondo me perché i maghi che mi seguono dal 2012 quelli che hanno voluto imparare mi seguono tuttora io ho una nicchia di 30 40 mila persone 11 mila ultra raffinate su telegram che sono quelli proprio sai ultra attaccati a cui voglio un sacco di bene e pian piano nel tempo si sono sempre appassionati di più e li ho sempre portati avanti gli altri arrivano e soprattutto il mio canale è facilissimo nelle ricerche io ho un sacco di video che arrivano un sacco di visualizzazioni che arrivano solo dalle ricerche cioè io sono uno degli argomenti più ricercati su su youtube le ricerche proprio quello è il punto come studi tu che cosa hai fatto io ho fatto io non ho un buon rapporto con la scuola ho fatto due anni di liceo scientifico poi ho mollato ho iniziato ho perso un anno e ho fatto il turistico economia lingue ma non sono un buon esempio non mi va di dire che cosa ho fatto cosa non ho fatto e adesso sei mago a tempo pieno io faccio di professione il mago vivo tramite youtube ovviamente la parte più grande arriva dagli spettacoli dai corsi di magia che facciamo in questo caso abbiamo fatto un corso che sta veramente volando al quale mi ci sto dedicando tempo giorno e notte e youtube video corso un video corso poi ho prodotto dei mazzi di carte ne ho prodotti 5 stiamo producendo il quinto abbiamo fatto per un totale di 40.000 copie tipo una roba del genere mazzi di carte proprio disegnati te ne prendo uno vediamo se ce l'ho che figata ma come si produce un mazzo di carte adesso te lo spiego è lunga allora aspetta tanto aspetta sto cercando di zoomare per vedere cosa c'è nella scatola del gran finale scatola sospetta però non lo so eccolo allora ti faccio vedere ne ho presi due perché non tipo questo è il primo ok che si chiama contemplation perché con il Buddha dietro no così ma questo era il primo nel 2017 quindi fatto molto male invece questo dorato ne ho fatti altri con altri disegni molto più belli ma questo è d'oro siamo in sette al mondo ad aver fatto il disegno d'oro e basta ho prodotto mazzi di carte e stanno volando ma come come si fa un mazzo di carte cioè come si produce allora tu devi andare dalla da una casa produttrice innanzitutto adesso ce ne so ce n'è una che ha comprato un'altra in genere noi ci affiliavamo sempre alla USPCC United States Plains Car Company che tu gli dai il tuo template quindi gli stampi le carte ma ogni carta è l'abbiamo come si può dire modificata per esempio adesso non so se c'è qua il Jack di Cuori o se l'ho perché tipo qua non ce ne sono però vedi tipo una carta abbiamo fatto così da un lato si legge Jack Nobile se tu la giri Jack di Cuori Jack di Cuori quindi abbiamo creato delle illusioni tipo il Jolly è così con la faccia del Buddha o altre carte sono altre figure per esempio nel Jack di Cuori ci sono io vediamo se qua c'è un Jack di Cuori con il mio volto eccolo qua vedi no? ah ecco gli occhiali quindi abbiamo fatto un sacco di robe poi l'ultimo che è uscito che si chiama Nirvana che non lo trovo perché sono tutti chiusi là è proprio secondo me il più bello è un disegno molto molto bello ho visto peraltro un'esplosione di sia su Facebook anche su TikTok c'è uno che però come magie fa tutta roba in After Effects effetti speciali quindi Zack King Zack King Zack King ok che fa un sacco di roba e beh lui fa tutte illusioni per esempio questa l'ho costruita tramite un'idea di Zack King questo è un porta oggetti che però se tu metti qua vedi due volti di profilo vedi devi concentrarti bene qua vedi il volto di profilo eccolo ah ok vedi aspetta te lo prendo più grande illusione ottica sì questi sono tutti oggetti che ho creato tramite Zack King dov'è la prospettiva giusta questa ok tu in teoria vedi i volti di profilo lui secondo me è un genio perché costruisce proprio illusioni lui lui non so se hai visto il documentario dove girava per casa sua per il suo studio gigante aveva tantissimi set cinematografici ognuno costruito apposta con illusione ottica genio un genio ma in questo momento se tu appunto devi vedere qualcuno che ti sembra particolarmente ispirazionale chi sono per te i più forti da seguire allora io ti dico per la tipologia di magia che faccio io quindi magia con le carte ti dico gli spagnoli gli spagnoli sono paurosi tipo il mio maestro Danida Ortiz tipo Juan Tamariz tutti questi qua sono incredibilmente bravi ma perché c'è una scuola di carte in Spagna perché perché ti ti fanno percepire veramente la magia con un solo mazzo di carte io una volta ho fatto uno spettacolo in un gala si chiamano gala dove ci sono più artisti e nel gala c'era uno che si era teletrasportato che aveva tagliato la donna a metà che aveva fatto un sacco di robe e c'era ovviamente l'applausone io ho fatto un gioco di carte e ho avuto l'applauso più grande capito? la magia non è quello che succede ovviamente le grandi illusioni vanno benissime le rispetto e mi piacciono da matti ma è l'emozione che fai passare no? l'artista non si misura in quanto chiede in qual è il suo cachet e che cosa fa di grande ma in quante emozioni in un'ora di spettacolo ti fa passare in un quarto d'ora secondo me sono bravi tutti è un'ora e mezza che devi vedere l'artista se dopo un'ora e mezza non ti ha rotto le balle quello è un bravo artista concordo in pieno è sempre così anche peraltro musicista cioè puoi avere un petto buono ma poi tenere su un'ora e mezza due ore di concerto è totalmente diverso è per fare questo di cambiare emozione capito? perché se io ti faccio provare stupore per 15 minuti dopo 15 minuti è il tempo limite del nostro carattere dove ti rompi le balle e non sai neanche perché perché è 15 minuti la stessa emozione quindi 15 minuti stupore figata robe nuove tipo ti faccio volare una sedia wow incredibile fighissimo tra 15 minuti te ne faccio volare un'altra ok il gioco è fighissimo ma mi hai rotto le balle perché l'emozione è sempre la stessa e quindi devi variare le emozioni non devi variare i giochi molti maghi pensano ti faccio sparire la moneta ti faccio sparire la pallina ti faccio sparire la carta l'emozione è la stessa giusto è capito? non cambia l'oggetto cambia l'emozione e con le carte puoi variare puoi fare uno spettacolo di magia questa è una gran chicca te la ruberò questa di variare le emozioni è la stessa cosa nella comunicazione è la stessa cosa non è che devi continuare capito? a fare trucchi diversi è proprio devi variare l'emozione della comunicazione Stefano Ala sono diverse le carte dei maghi dalle carte normali? diciamo che le carte dei maghi sono carte normali soltanto americane tipo queste si chiamano bicycle standard in questo caso supreme line perché sono le nuove standard e semplicemente sono di tela non sono né di plastica né di cartone no sono di tela se io metto vicino magari puoi vedere addirittura la tela magari no perché la telecamera non è il massimo e scorrono scorrono veramente bene vedi che io posso farti queste cose qua o ti faccio che cacchio ne so questo che poi piace molto ok scorrono moltissimo ok ok è un materiale diverso ovviamente esistono carte truccate esistono carte truccate di ogni tipo ma queste ovviamente io non uso carte truccate mi piace più la mia tecnica la mia abilità cosa intendi carte truccate per carte truccate ti intendo adesso al momento sotto qua non ne ho una ma sono delle carte che ti permettono di fare tante cose non posso entrare più nello specifico ok magari c'è su una stessa carta ci sono possibilità di avere più sì per esempio non lo so ci sono le carte doppia faccia quindi le carte che da un lato hanno una faccia dall'altro no adesso in questo caso non posso non ce l'ho però sì esistono carte truccate per come faccio magia io e devo dare da esaminare ogni cosa allo spettatore perché non voglio in nessun e poi è anche più è anche più d'effetto perché se ti faccio vedere che è tutto normale e succede la magia lo stesso è ancora più forte assolutamente assolutamente senti dimmi la tua giornata tipo non in questo periodo di di covid che adesso in Italia insomma mi sembra che si annusi una buona aria di apertura non so lì ma qua in Regno Unito è ancora tutto lockdown anche se sono andato a portare fuori il cane prima e sembrava di essere alle Barbados voglio dire però diciamo ad oggi ancora ufficialmente c'è lockdown lentamente si riavvia come giornata tipo tua anche a livello di studio di apprendimento di preparazione come la strutturi allora io mi sveglio mi faccio il caffè tipo alzo così no la moca come si chiama aspetta che tolgo questo pisello qua ok però chiusa no chiusa ok e si prende si versa il caffè ok e poi successivamente ovviamente si prende un po' lo zucchero ok a me personalmente il caffè piace parecchio zuccherato vediamo così ok assaggiamo no fa un po' schifo guarda che metto un po' di zucchero va c'è però non vale cioè allora io voglio solo dire questo più dolce è cioè poi dipende se ti piace il caffè zuccherato oppure se ti sta a te secondo me sta a te però devi stare attento perché non è easy voglio solo dire questo Jack allora noi ci tengo che tutti sappiano è la prima volta che ci vediamo in video non abbiamo nessun tipo di argomenti concordati cioè zero ok è totalmente improvvisato è tutto improvvisato raga non poteva sapere niente ok cioè non è che ha detto oh allora prepara la bustina che dopo ti zero un cazzo ok è tutto improvvisato aspetta che facciamo così va aspetta ecco ecco bastardo non vale cioè non è giusto però non è giusto va bene ti alzi la mattina fai il caffettino faccio il caffettino allora come strutturo la mia giornata in genere è mi sveglio e cerco e cerco di non di non fare niente che abbia a che vedere con la magia proprio faccio io per dirti mi diverto a vedere l'acqua che bolle quando faccio il tè quindi faccio tutto lentissimo proprio lento 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 tranquillo faccio l'acqua che bolle il tè metto lì poi verso le nove nove e mezza dipende io mi sveglio molto presto ok nove nove e mezza mi metto a a pensare a quello che devo fare oggi ok di solito io c'ho una lista delle cose da fare che me la faccio la sera prima c'ho una lista delle cose da fare e le faccio ma in genere è sempre solo montare video perché io mi dedico tre quattro giorni per fare video per registrare video e tre quattro giorni per montare video questa è la mia settimana ok non sapevo non sapevo se montassi anche cosa usi Premiere Pro Final Cut Final Cut mi trovo meglio e non hai mai deciso di dar fuori il video da montare a qualcun altro oh è che per me mi piace talmente tanto che poi non saprei neanche cosa fare durante la giornata nel senso ok penso alla magia però mi piace montare video e poi in genere mi piace anche cioè io pratico molto finito tutto il lavoro adesso bello il lavoro bella la magia è tutto ma mi dedico tanto a me tanto tanto alla mia persona quindi pratico la meditazione mindfulness studio per il master in neuroscienze ho diversi contatti delle robe quindi mi piace dedicarmi a me questo è quanto e la parte degli spettacoli adesso vabbè bisogna vedere quando ripartiranno però certo è una cosa anche lì ci si mette quanto tempo a preparare uno spettacolo tutta la vita secondo me lo spettacolo è tutta la vita dura io sono partito tre anni fa due anni e mezzo fa con uno spettacolo da teatro e sono partito da tre quattro giochi e adesso siamo ad un altro livello che coinvolge per esempio non lo so il cubo di rubik o coinvolge altre cose tipo guarda faccio così si risolve mi serve a me che c'è mio figlio che lo sa risolvere io no devo fare no veramente per il discorso spettacolo secondo me anche nella notte per dirti mi viene l'idea la scrivi capito cioè ci sono giornate in cui non penso alla magia e mi viene lì l'idea piuttosto che giornate in cui penso a magia tutto il giorno e non mi viene l'idea capito e secondo me lo spettacolo è molto artigianato non so come dirti devi costruirtelo come vuoi tu puoi comprare i giochi già fatti puoi fare ma secondo me la cosa migliore è costruire te stesso uno spettacolo tutti i giochi per ora diciamo con le carte o la carta che si trasforma il caffè costruiti capito senti la vita da solo com'è la vita da solo è bellissima no voglio bene la mamma mio papà mia sorella che abita a Tenerife ormai quindi fa la bella vita la invidio però vivere da soli sei libero sei totalmente libero beh puoi organizzartela come io mi ricordo quando sono andato a vivere da solo la prima volta hai questa sensazione ah come dire interessate io mi ricordo che la prima notte ho dormito su una brandina anche non c'erano i mobili dormito su una brandina nel tuo nel tuo posto lì c'è c'è tutta roba di magia che ti piazza per i fatti tuoi non hai bambini che arrivano e dicono aspetta aspetta che spacco questo tra che ti rovinano tutto ah va bene totalmente da solo qua sono solo scaffali che vanno fino là pieni zeppi di roba di magia di carte di tutto che figata che aspetta dimmi che che programmi hai da qua ai prossimi 12 mesi oh dio questa è una domanda alla quale io non so personalmente rispondere ma proprio come sono fatto io non lo so io voglio continuare col corso perché il corso di magia per me in questo momento ha la priorità perché ci sono migliaia di persone che si sono iscritte e hanno detto voglio imparare magia quindi per me hanno la priorità e ogni video che registro lo pubblico lì e poi fare video e sperando che riapra la situazione andare a pescare cioè io non vedo l'ora di andare a prendere la mia barca nel mio gommone andare a pescare sei pescatore peschi regolari o peschi capito che gli fai al pesce no 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 pesco le carte era la battuta pesco una carta no no pesco veramente pesco veramente mi piace poi qua davanti c'ho il mare la laguna dicono che non si può andare in spiaggia ma noi prendiamo il gommone ce ne andiamo sull'isola che ci frega chiaro ma poi guarda cioè in realtà vedrai che nei prossimi due mesi ci saranno un sacco di cambiamenti di modifiche certo io ti vedo con i scatti un po' male ma dici che è colpa mia o colpa tua secondo te non lo so spero spero di essere giusto ecco ma mi senti ancora? no no per sentirti ti sento perfettamente è soltanto un po' il video ma il mio wifi è attaccato quindi boh magari l'importante è che si veda te e la scatola gran finale la mia faccia è rilevante questo deve Alessandro Federico Righettoni da YouTube ti chiede qual è il tuo rapporto con i tuoi amici maghi concorrenti sembrate un team unito in genere Jack devo dire che i principali critici sono sempre quelli del tuo settore no ti faccio ti faccio una correzione i principali critici sono quelli non professionisti quelli che amano gli amatori quelli sono quelli che criticano non i professionisti non sentirai mai un professionista che ti fa una critica semmai ti aiuta io con i miei amici sono appunto amici quindi c'è un rapporto di totale amicizia trasparenza e tutto quello che vuoi quindi per me con loro mi trovo da dio e mi sono creato questa sorta di comunità dove ognuno di noi è specializzato in una cosa per esempio Haid è specializzato col cubo di Rubik è uno dei migliori al mondo a fare il cubo di Rubik e a fare magia col cubo di Rubik ha inventato la cubo magia lui quindi ha inventato ha creato un DVD che si chiama cubo magia dove insegna la cubo magia a partire dalle basi che prima nessuno aveva mai fatto quindi è proprio è un rapporto di di condivisione e di aiuto e di sostegno e soprattutto gli amici è fondamentale è una regola che abbiamo tra di noi e che dobbiamo dirti dove sbagli no? perché gli amici quelli veri non ti dicono va tutto bene ti dicono no? lì è sbagliato fallo bene capito no? questa è la nostra regola chiaro ma di 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 maghi presenti su YouTube ce ne sono una marea no? gente comunque che fa anche magie di tipo diverso eccetera che che rapporto c'è tra di voi? c'è una specie di ritrovo dove vi sentite periodicamente c'avete un gruppo telegram no in genere noi cioè in genere ho il mio gruppo di sette otto amici tutti su whatsapp e e condividiamo lì le idee o quando vengono qua o venivano qua condividiamo le idee qua con gli altri io in genere non ho troppi rapporti anche perché anche perché sì mi trovo bene con i miei amici nel senso se gli amici non li programmo no se trovo uno tutti questi amici che ho adesso che fanno magia che sono professionisti non era non li avevo prima no quindi li ho incontrati nel percorso e non sono diventati i miei amici perché fanno magia su youtube ma perché sono belle persone capito? quindi non riesco a programmare le amicizie ho k ho k bene senti check sono troppo curioso dimmi sto gran finale ok siamo arrivati al fondo e ho questo gran finale davanti speriamo che ci veda bene ti allargo ti allargo aspetta tac ok bene allora volevo vedere se avevo altre magie da farti prima del finale così per divertimento ma avevo visto questa questa era un'illusione ma questa è una cagata è tipo un'illusione che vedi un cerchio però se era drizzo vedi un quadrato ma questa è solo solo così è una cagata che volevo provare ho detto vabbè no gran finale signore e signori accendo la telecamera perché così questo non me lo voglio perdere la tua reazione allora io e te la mia reazione sgranata la tua reazione sgranata allora io e te non ci siamo messi d'accordo ci siamo visti oggi la prima volta anzi ti ringrazio per l'opportunità per tutto quello per tutta la chiacchierata e veramente per le domande e tutto ma non ci siamo messi d'accordo no e ti ho chiesto durante questa live di pensare prima ad un colore poi ad un seme e adesso ti chiederò di pensare ad un numero le carte sono asso 2 3 eccetera eccetera quindi ti chiedo di pensare ad un numero ok ce l'ho e al finale andremo a creare una carta ok ce l'hai hai creato la tua carta uniamo il colore dimmi voi scusami vuoi che la scriva nei commenti così sei sicuro che non ti dico chiedo ciecamente di te gran finale io apro la scatolina allora aspetta aspetta la scrivo nei commenti aspetta puoi scriverla nei commenti va bene scrivila nei commenti non ho mai accesso in ogni caso è tutto deciso fin dall'inizio eh raga ok tanto non la puoi cambiare ok vado ho scritto aspetta la sto postando aspetta andata perfetto allora apro la scatolina abbiamo creato siamo partiti da un numero sì no da un colore che colore hai pensato dillo dillo rosso 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 siamo arrivati ad un numero che numero hai pensato sei sei rosso cuori o quadri cuori sei di cuori io ti faccio vedere che qui cosa c'è scritto legge cosa c'è scritto la carta che stai pensando fin dall'inizio è girata al contrario in questo mazzo ok mamma mia che 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 ok vai spero che si veda sì la carta che hai pensato fin dall'inizio non ci siamo messi d'accordo ma è girata sei di cuori hai detto sì ci sono solo carte girate tutte tranne una non può essere jack vengo a legnano sabbia d'oro prendo il volo stasera se sei di cuori non hai sbagliato di che l'hai sbagliato dai il sei di quattro e voilà ma no grande grande ma non vale questo non vale vai dimmi come hai fatto rinvitami un'altra volta no scherzo no no scherzo fai tu non te lo posso dire mi dispiace ma è un fatto lasciami va bene dai non indago perché hai ragione però ecco mi hai sorpreso ero certo a dir la verità mi hai sorpreso anche perché guarda che ho cambiato avevo in testa due carte diverse e poi alla fine quando ho scritto in chat ho fatto ho detto vabbè dai vado con questa i commenti che stavo dicendo sono felici grande Jack vabbè pazzesco pazzesco che mito non vale non vale grande 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 paolo complimenti da tutti super Jack senti mi ha fatto veramente piacere chiacchierare e conoscerti piacere super veramente è stato un onore veramente ti ringrazio caro ci teniamo in contatto e in bocca al lupo mi raccomando prosegui perché sei fortissimo grazie mille anche tu spacca tutto sei veramente il numero uno ciao Jack in bocca al lupo ciao ciao ciao